La nuova puntata di tale e quale show in onda venerdì 25 ottobre 2024 su Rai 1 ritrova i tanti imitatori per caso del cast, pronti a farsi giudicare da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e dal giudice aggiunto che questa sera è un ritorno, ovvero Pupo. Le esibizioni introdotte da Carlo Conti iniziano subito a bomba, con due standing ovation, per due concorrenti tra le più papabili per la vittoria finale. Si parte con Amelia Villano, l'imitatrice che la scorsa settimana ha incassato la sua prima vittoria imitando Giussi Ferreri, ma soprattutto ha emozionato, raccontando con sincerità di essere stata, da ragazza, vittima di bullismo. Questa sera, in continuità con le confessioni della scorsa settimana, si esibisce imitando Emma e cantando a Mami. Prima di cantare, Amelia Villano racconta dell'emozione dei genitori dopo la scorsa puntata, non solo per la vittoria, ma anche per aver scoperto molti anni dopo una sofferenza tenuta nascosta dalla figlia. E anche la sua Emma è molto forte e intensa e infatti si conclude con la prima, meritata standing ovation della serata. Al banco della giuria Alessia Marcuzzi dice, secondo me, cara Amelia, tu hai fatto lo switch con Giussi Ferreri e da quando hai parlato delle tue debolezze e delle tue insicurezze ti sei sbloccata, hai iniziato ora il tuo tale e quale. E stasera sei anche simbolo del girl power, come Emma. Panariello è d'accordo e rilancia, quest'anno stiamo scoprendo qui dei grandissimi talenti, tu sei un'artista completa. Anche Pupo ha apprezzato Amelia e addirittura Malgioglio ha parole dolci per lei, la settimana scorsa hai fatto una Giussi Ferreri incantevole, meravigliosa. Emma ha nella voce un colore blues, è una leonessa, nelle movenze ci siamo, sei stata molto piacevole, ma mi mancava il graffio e queste sfumature di blues di Emma. Dopo questo successo, arriva sul palco la prima in classifica, verdiana, che deve interpretare Cristina Aguilera in Lady Marmalade e anche lei nel video introduttivo parla dei problemi che ha avuto di accettazione e di rapporto con il suo aspetto e il suo corpo, ormai felicemente superati. Ma prima dell'esibizione di Verdiana c'è tempo per una sorpresa. Prima di lanciare la pubblicità infatti, Carlo Conti va a sbirciare dietro le quinte e, in mezzo al corpo di ballo, ci trova, a sorpresa, Luca Laurenti. Luca, ma che ci fai qui? chiede il conduttore. Mi ha coinvolto lui, che tra l'altro manco conosco. Dice, riferendosi a Massimo Bagnato. Poi Verdiana si esibisce e conquista la seconda standing ovation della serata, anche la giuria la apprezza, tranne che punto Cristiano Malgioglio che dice, spero che che abbiano messo a letto i bambini. Poi l'immancabile aneddoto personale su Cristina Aguilera, che ha sofferto molto nella gioventù e che è molto scaramantica, vuole 24 bottiglie di acqua minerale in camerino eccetera eccetera. Conclusione, Verdiana non ha dato il brivido a Malgioglio, stasera particolarmente velenoso, anche perché indossa un outfit ispirato alla terribile Medusa, pronto a incenerire chiunque non sia di suo gradimento. E voi cosa ne pensate?